Per suonare il brano ponteponente dovrai sistemare la mano in posizione di fa, pollice sul fa, indice sul sol, medio sul la, anulare sul si e il mignolo sul do acuto. Ti ricordo che in questo brano c'è la cellula polacca formata da croma seguita da due semicrome. Per suonare il brano c'è la cellula polacca formata da due semicrome.